Buonasera oggi per commemorare quella che è stata una delle stragi più gravi della guerra nella ex Jugoslavia vorrei dire la strage di srebrenza che si è verificata 25 anni fa proprio in questo periodo tra il 6 luglio e il 25 luglio del 1995 ho pensato di trattare in questo nostro ultimo appuntamento letterario prima della pausa estiva un romanzo molto significativo per questo tema vale a dire venuto al mondo della scrittrice Margaret Mazzantini che è ambientato proprio nella Sarajevo assediata della guerra nella ex Jugoslavia e il romanzo in effetti si snoda su ben tre piani temporali anzi Margaret Mazzantini è molto abile proprio nell'uso dei piani temporali diversi perché è capace di far intersecare tre piani temporali che riescono in questo modo a spiegare al lettore lo svolgersi della vicenda per circa un ventennio perché la storia si ambienta nella Sarajevo del 1984 durante le olimpiadi invernali che la città la capitale della Bosnia all'epoca era ancora la Bosnia-Zegomina indipendente ovviamente che conosciamo ma era una delle città più importanti di quella che era la Jugoslavia si trovò ad ospitare poi c'è un salto avanti nel tempo ovviamente nel 1992 nel pieno della guerra quando scoppia la guerra nella ex Jugoslavia e si arriva circa ai giorni nostri nel 2009 e tutto viene raccontato attraverso gli occhi della protagonista che è Gemma allora la storia inizia nel 2009 Gemma infatti che è appunto la protagonista viene contattata da un suo caro amico un poeta bosniaco goico per recarsi a Sarajevo dove ci sarà una mostra una mostra in cui saranno esposte le fotografie che commemoreranno i fatti tragici della guerra nella ex Jugoslavia e nella quale verranno esposte anche le foto scattate da Diego il grande amore della vita di Gemma quello che è stato il suo secondo marito nonché padre di suo figlio Pietro e a questo punto Gemma coglie la palla al balzo per fare una sorta di viaggio di formazione anche con il figlio Pietro nei luoghi dove lui è nato perché Pietro è stato concepito e è nato proprio a Sarajevo e purtroppo il padre è morto in Croazia vedremo poi in che circostanze e Diego non ha mai conosciuto perché è morto quando lui era ancora in fasce quindi Gemma prende questa occasione proprio per portare il figlio negli ultimi luoghi che il padre aveva visto e in quelli che poi sono i luoghi della sua nascita e decide di tornare dopo tanti anni a Sarajevo perché lei in realtà mancava da Sarajevo da circa 16 anni dal 92 quando era scoppiato il conflitto e naturalmente tornando in questa città che per lei era stato teatro di questa storia d'amore così importante con con Diego e Gemma ci racconta tutta la sua vicenda e torna ancora più indietro nel tempo perché ci spiega quando per la prima volta mise piede a Sarajevo era il 1984 erano le Olimpiadi invernali che furono ospitate da Sarajevo la città quindi era naturalmente addobbata a festa per questo evento fondamentale e lei si era recata a Sarajevo per motivi di studio perché stava concludendo la sua tesi di laurea e questa era incentrata proprio su un noto poeta sarajevita e quindi aveva chiesto a Goiko aveva preso contatto con questo Goiko che era anche un poeta bosniaco e questi le aveva fatto da guida le aveva fatto vedere Sarajevo le aveva spiegato delle cose riguardo al poeta su cui lei stava conducendo questa tesi di laurea e avevano fatto amicizia e poi Goiko aveva svolto una funzione molto importante perché una sera proprio la sera prima che Gemma partisse per l'Italia e che ritornasse a casa le aveva presentato Diego questo fotografo che Gemma chiama il fotografo delle pozzanghere perché Diego è un fotografo molto sui generis fotografa anche paesaggi pozzanghere è un uomo di grande indipendenza uno spirito libero e quindi quando Gemma e Diego si incontrano scatta il classico colpo di pulmine diciamo che Goiko il poeta guida bosniaco appunto un po da galeotto da cupido e la situazione e però c'è un problema perché Gemma in Italia è un fidanzato sta per sposarsi si deve sposare qualche mese dopo e quindi deve decidere se accettare questa nuova storia d'amore oppure se sposarsi col suo fidanzato storico e Gemma decide di tornare a casa e si sposa con quello che era il suo fidanzato storico però rendendosi conto ben presto di aver commesso un grave errore perché lei è ancora innamorata di Diego non riesce a dimenticarlo e allora ecco che Goiko di nuovo riveste i panni del galeotto della situazione perché invita a Sarajevo nuovamente Gemma per il battesimo della sorella Sebina nata da poco e anche Diego in modo che i due possano rincontrarsi. L'incontro avviene e Gemma questa volta capisce che ha commesso un grave errore a sposarsi nonostante l'amore per Diego per cui da quel momento in poi i due non si lasciano più Gemma divorzia dal marito e decide di stare insieme a Diego e poi i due si sposano anche. La vita matrimoniale è una vita felice, soddisfacente, si amano moltissimo però come spesso accade c'è un problema e quando le cose sembra che vadano bene poi magari si verifica la complicazione di turno. La complicazione in questo caso è che Gemma non può avere figli, ha un grave problema all'utero che le impedisce di procreare e per Diego questo non sarebbe neanche un problema perché lui sta bene con Gemma sono felici però per Gemma è un croccio molto grave e quindi lei cerca in tutti i modi di avere un bambino. Quando questo bambino non arriva in maniera naturale i due decidono di adottarlo però anche qui la situazione non è facile. La burocrazia è molto difficile da superare, ci sono tanti cavigli burocratici, tante visite da cui sottoporsi, tante scartoffe da riempire, insomma la situazione non è semplice. A questo punto Gemma anche molto stanca di sopportare tutte le pressioni psicologiche del caso decide di eludere la legge italiana e di recarsi con il marito in Ucraina per ricorrere a una madre surrogata e riuscire ad avere il tanto agognato bambino. Però anche qui la situazione non va come i due speravano perché si rendono conto che la clinica che hanno scelto e la donna poi che hanno scelto un errore di madre surrogata poi in realtà non lo fa di sua volontà, è costretta dal marito, è maltrattata dal marito, è picchiata e quindi decidono che non possono approfittarsi così di una situazione simile per cui a male in cuore tornano in Italia e non riescono a realizzare questo desiderio di avere questo bambino. Poco dopo decidono di fare un altro viaggio a Sarajevo, quindi sono passati nel frattempo degli anni rispetto all'84, siamo all'inizio degli anni 90, siamo nel 92 e Sarajevo come loro arrivano si accorgono che la situazione non era più quella dell'84, avevano infatti lasciato una città cosmopolita dove caratterizzata proprio dalla molti cultura, dal dialogo tra anche culture diverse, religioni diverse, dove comunque i serbi ortodossi, i croati cattolici e i bosniaci musulmani vivevano in pace e adesso invece trovano una città in uno stato di grande agitazione dove i nazionalismi stanno sempre più prevalendo perché la guerra ormai è alle porte e poi lo vedremo più nel dettaglio che cosa accadrà perché uno dei temi fondamentali è proprio quello della guerra nella ex Jugoslavia. Comunque Diego e Gemma capiscono subito di trovarsi in una situazione di grande difficoltà in una Sarajevo che era molto diversa rispetto a quella dell'84. Riprendono sempre i contatti con l'amico Goiko che nuovamente gli fa da Cicerone e soprattutto Goiko che è un po' sempre il deus ex macchina della situazione, gli presenta una ragazza, una certa Aska, una musicista, una ragazza molto sui generi, molto ribelle, che ama suonare il sassofono, si veste da punk, ha atteggiamenti diciamo molto anticonformisti e Goiko suggerisce a Gemma e a Diego di chiedere l'aiuto di Aska come madre surrogata. Cioè Aska potrebbe mettere al mondo un bambino di cui loro potrebbero occuparsi, ovviamente dietro il pagamento di una somma di denaro che serve alla ragazza per iniziare anche una vita nuova come musicista e per cui dopo un tentennamento iniziale, dato il grande desiderio di diventare i genitori che sia Diego che soprattutto Gemma hanno, accettano questa proposta di Goiko e chiedono in effetti l'aiuto di Aska. Aska poi lo vedremo, un nome particolare perché l'amazzantici ritorna spesso il nome di una pecora di una favola di un noto poeta sarà lievita. Comunque poi su questo torneremo nell'analisi dei personaggi. E naturalmente che cosa succede? Succede che questa situazione però è anche molto complicata perché Aska deve fare da madre surrogata e però Gemma si convince che il modo più facile perché Aska possa mettere al mondo un bambino e che in effetti lei abbia un rapporto sessuale con Diego e la maniera più semplice e più veloce anche perché la situazione a Sarajevo sta degenerando e loro sanno che non potranno rimanervi molto a lungo. E quindi una sera dopo che sono stati fatti tutti i calcoli del periodo di fertilità di Aska, delle probabilità che lei ha di rimanere incinta e Gemma lascia da soli Diego e Aska sperando che concepiscano l'agoniato bambino, l'agoniato figlio. Però i piani non vanno come loro avevano progettato perché che succede? Che mentre Diego e Aska stanno tentando anche in maniera molto goffo un approccio sessuale e Diego non riesce a portare a compimento la situazione perché non vuole tradire Gemma e quindi non riesce ad arrivare fino in fondo. Poi si allontana momentaneamente dalla casa dove si erano rifugiati lui e Aska per consumare questo rapporto sessuale e accade un evento molto imprevisto e anche molto serio che vedremo tra un po'. Comunque fatto sta che non accade quello che Gemma si era aspettata perché poi Diego ritorna da lei e le dice che non ce l'ha fatta a tradirla e non se n'è fatto nulla purtroppo anche questa volta dovranno rinunciare all'agoniato bambino. La situazione però come ho detto a Sarajevo è sempre più seria per cui sono costretti a andarsene in pretta e furia perché ormai i cecchini stanno circondando la città, l'esercito serbo-bosniaco è sempre più minaccioso e la città è sempre più sotto assedio per cui Gemma e Diego sono costretti a tornare in Italia. Tornano in Italia ma Diego è molto inquieto, si vede che c'è qualcosa che non va, che lui non vuole confessare a Gemma e praticamente a un certo punto un giorno Diego lascia Gemma con un biglietto e le dice che è tornato a Sarajevo, che dovrà tornare. A quel punto Gemma che è presa da mille dubbi non sa cosa pensare perché crede in un primo momento che lui sia tornato da Aska. Forse è innamorato di Aska, non è più innamorato di lei, per questo è tornato, insomma a tanti dubbi. E a quel punto anche lei in maniera quasi clandestina riesce a ritornare in una Sarajevo che ormai è in piena guerra. Una Sarajevo dove mancano tutti i servizi essenziali, luce, l'elettricità, il gas, l'acqua, dove i cecchini sparano ogni piesso spinto, dove interi quartieri sono assediati e però purtroppo Gemma per amore del marito corre questo rischio, lo va a cercare e lo trova e naturalmente chiedendogli il motivo del fatto che lui sia ritornato a Sarajevo e sospettando che l'abbia fatto per Aska. Il marito le spiega la situazione, anzi l'accompagna proprio da Aska e Gemma vede che la ragazza è incinta e a quel punto lei crede, ma poi vedremo che gli eventi smentiranno questa versione, poi vedremo cos'è accaduto. Però Gemma crede che il marito le abbia mentito in passato e che quindi lui in realtà abbia avuto un rapporto sessuale con Aska e da quel rapporto lei sia rimasta incinta. La ragazza poi con il loro aiuto riesce a portare avanti la gravidanza con molte difficoltà in una città bombardata, sotto assedio, quindi con tutte le difficoltà del caso. Naturalmente Gemma sta ricordando, non ci dimentichiamo che siamo sempre in alternanza di piani temporali, quindi ci sono dei momenti in cui siamo nel 2009 e lei è con il figlio a Sarajevo con Goico e ha visto questa mostra dedicata al marito e ci sono dei momenti in cui ricorda e siamo nel passato tra l'84 appunto e il 92, proprio perché il romanzo è connotato da questa alternanza da piani temporali. Comunque Aska, tornando al 92, finalmente riesce a partorire questo bambino che viene chiamato Pietro e a quel punto riceve la somma di denaro pattuita con cui può rifarsi anche una vita e Gemma e Diego e il bambino, grazie all'aiuto di Goico che oppure a loro li lascia passare su un aereo umanitario, possono tornare in Italia. Però, come spesso accade nel romanzo, che è ricco di colpi di teatro e di agnizioni, succede che Diego, mentre sta per salire sull'aereo, abbia perso i documenti, o meglio, lui dice di aver perso il passaporto e quindi in Italia ci torna solo Gemma con il bambino, con il piccolo Pietro. Diego rimane. Cioè, ancora una volta, Diego compie un gesto che apparentemente è spiegabile. Se era andato precedentemente, era tornato lì nascosto con un solo biglietto di addio alla moglie a Sarajevo, adesso finge di aver perso il passaporto e rimane a Sarajevo. Quindi il comportamento di Diego, almeno apparentemente, fino a quando non avremo poi il svelamento finale, sembra spiegabile al lettore. Perché rimane? Allora è innamorato di Aska? Non ama più Gemma? Rischia la vita per Aska? Perché lo fa? Comunque, lui rimane a terra. Gemma è il bambino che trova in Italia. A quel punto Gemma cerca più volte di contattarlo, lui ogni tanto la chiama, gli dice che sta bene, che non poteva tornare in Italia, che doveva fotografare tutti quegli orrori, la violenza della guerra, che non sarebbe stato in pace con se stesso, che fosse tornato. E poi un giorno arriva la notizia che a Dubronik, in Croazia, durante un'escursione per fare delle foto su degli scogli, delle rocce, Diego malauratamente è scivolato ed è morto battendo la testa. E quindi Diego muore in maniera del tutto accidentale, proprio alla fine quasi del conflitto. E a questo punto il racconto di Gemma si ferma, perché è tutto quello che Gemma sa. Gemma ritorna a Niro nel tempo con un flashback e ci racconta il suo punto di vista, quello che sa lei. Alla morte di Diego si ferma il suo punto di vista, perché non sa più nulla, non sa perché Diego sia tornato indietro, è piena di dubbi, in effetti ha fatto questo viaggio a Straievo nel 2009 solo per capire qualcosa, per intendere perché Diego sia tornato indietro, perché amava Asca, perché non amava più lei, qual è il motivo? Però lei non lo sa ancora, il suo punto di vista si ferma con la morte di Diego, lei non può andare oltre perché è tutto quello che sa. A quel punto torniamo nel presente, nel 2009, e c'è un altro pub di teatro, vi ho detto poco anzi, che il romanzo è pieno di colpi di scena e di riconoscimenti, di agnizioni, c'è una tecnica teatrale molto ben adoperata dalla Mazzantini, forse perché lei stessa è stata a lungo anche attrice teatrale, pur d'assi che abbia preso spunto anche da questo. Comunque, fatto sta che c'è un altro grande colpo di scena, perché Goico, poco prima che Pietro e Gemma ripartano per l'Italia, dopo che hanno assistito a questa mostra di fotografie da cui ci sono anche quelle di Diego, le fa una rivelazione importante, le dice e comunica di essersi sposato e soprattutto di essersi sposato con Asca. Quindi Asca, la ragazza, la madre di Pietro che Gemma credeva ormai chissà dove, magari morta nella guerra oppure in qualche paese in giro per il mondo a suonare il suo sax. Insomma, in realtà è sposata con Goico, ha messo su famiglia con lui e a questo punto Gemma ha un momento di grande scoramento, anche di timore. Teme che Goico e Asca le abbiano tese una sorta di trappola, che l'abbiano fatta andare a Sarajevo soltanto per far conoscere Pietro alla madre naturale, ha paura che glielo vogliano portare via, che lo vogliano allontanare. Insomma, ha un momento di grande panico e però Asca la tranquillizza e soprattutto le racconta la verità. Ecco che abbiamo il momento di scioglimento di tutti i dubbi di Gemma. Gemma ha vissuto tanti anni con il dubbio, si è chiesta perché Diego sia tornato indietro. Adesso Asca le racconta quello che realmente è accaduto in quel rifugio dove loro tentarono di avere il rapporto sessuale che poi non ebbero. Che cosa accadde? Si torna indietro di nuovo nel 1992 e Asca le dice che quella notte, quando Diego si allontanò per un po' da lei e piombarono su quel rifugio dei soldati, un gruppo paramilitare di serbo-bosniaci che come spesso accadeva durante la guerra, come spesso accadde, la violentarono. La violentarono e non solo la portarono, poi anche con sé la rapirono portando in un vero e proprio centro di prigionia, un centro di detenzione dove le donne subivano sistematicamente lo spuntro inteso come arma proprio di guerra, come arma di pulizia etnica anche se vogliamo in un certo qual modo, di massima umiliazione e quindi lei ha subito tutto questo. Pietro, cioè Diego scusate, Diego proprio sentendosi in colpa perché quella sera purtroppo non era riuscito ad aiutarla ma aveva visto tutto da lontano senza poter intervenire un po' per paura, un po' per biaccheria, per timore di essere ucciso, fatto sta che non aveva fatto nulla e si era sentito in colpa e quindi era poi tornato, l'aveva cercata, era riuscito a trovarla, a tirarla fuori da quel centro di detenzione e se ne era preso cura fino alla nascita del bambino e questo era anche il motivo per cui poi era ritornato indietro, non era salito sull'aereo perché comunque si sentiva responsabile per Aska anche dopo la nascita del bambino. Quindi è come se Diego tornando indietro per ben due volte da Aska l'avesse fatto non perché non amasse più Gemma o perché si fosse innamorato di Aska ma per senso di responsabilità, per senso di colpa verso la ragazza perché per riscattare quasi la bigliaccheria di quella sera che non aveva permesso di aiutarla e quindi per quel motivo lui si era sentito responsabile verso di lei ed era tornato indietro per ben due volte. Quindi di fatto Gemma capisce tutti i dubbi, le incertezze degli anni precedenti la lasciano e le si rende conto del comportamento del marito che aveva agito così sia per senso di colpa, di responsabilità verso Aska e sia perché dopo gli orrori della guerra non se la sentiva ritornare alla sua vita di prima senza poterli almeno testimoniare, senza continuare a fotografare. Quindi capisce finalmente dopo tutti quegli anni le ragioni di Diego e capisce anche un'altra verità che Pietro non è figlio nemmeno del marito, è figlio di Aska e non si sa di chi, di uno degli uomini che l'ha violentata. Per il momento Gemma decide comunque di tacere a Pietro questa verità e magari la direi in un futuro ma adesso non gliela dice, decide di insomma di tornare in Italia ma non raccontargiela. Tant'è vero che poi il romanzo si chiude dopo che Aska ha fatto la conoscenza del figlio senza ovviamente rivelargli di essere la vera madre e con il ritorno poi in Italia di Gemma e di Pietro che riprendono la loro vita solita, normale, quotidiana anche con l'aiuto di Giuliano il nuovo marito di Gemma che di fatto è il padre per Pietro e a cui Gemma racconta tutto e che decide di aiutarla a portare comunque questo fardello pesante che per il momento non verrà disvelato a Pietro però Gemma finalmente si è messa l'anima in pace perché ha sciolto tutti i suoi dubbi, quei nodi insoluti che l'avevano spinta al viaggio a lasciare l'Italia nel 2009 appunto a tornare indietro a Sarajevo e a ricordare l'84, il 92 adesso finalmente grazie al racconto di Aska sono stati chiediti, quindi si è potuto chiudere con il passato, ha potuto mettere insieme tutti i pezzi del mosaico, del puzzle e quindi finalmente riappacificarsi anche con il ricordo dell'amato Diego, il suo fotografo di Pozzanghere e quindi il romanzo si chiude in questo modo con questa consapevolezza. Allora, naturalmente i personaggi sono molto ben delineati alla Mazzantini anche in maniera molto complessa, la protagonista è Gemma, Gemma è una donna molto forte, decisa, è una donna che attraversa anche grandissime difficoltà, più volte deve scegliere nella sua vita, deve scegliere tra il primo marito e Diego e poi deve scegliere se accettare una maternità surrogata o meno, ancora si trova davanti al comportamento del marito che non capisce, che per ben due volte scappa a Sarajevo, rimane la seconda volta, lei non sa come interpretare questo comportamento, insomma è una donna che si trova davanti a stante prove, l'ultima quella delle origini di Pietro, viene a sapere che Pietro in realtà non è figlio di Diego e per il momento in maniera molto saggia decide di tacerelo, quindi comunque è una donna che è abituata a fronteggiare le difficoltà ed è una donna molto decisa, molto forte, che ha un grande estinto materno, paradossalmente sotto il profilo biologico non riesce a essere madre, ma è madre sotto il profilo morale, madre non solo di Pietro, ma anche dello stesso Diego, perché Diego ha in sé tratti di grande immaturità e quindi molto spesso Gemma per lui è anche una sorta di figura materna, che è una donna che si tratta di grande immaturità e quindi è un uomo molto idealista, lei lo chiama in maniera affettuosa il fotografo di Le Pozzanghere, proprio perché fa il suo lavoro con passione e lo fa con cuore, con mettendoci anima nel suo lavoro, è un uomo anche che non pensa alle conseguenze delle sue azioni, e si getta a capofitto senza però pensare a quello che potrebbe costargli e lo fa quando decide di rimanere a Sarajevo, pagherà un prezzo altissimo per questo, ama molto viaggiare, tant'è vero che quando raggiunge Gemma, dopo che Goico ha organizzato la riunione, l'incontro nuovamente per il battesimo di Sebina, stava dall'altra parte del mondo, in Sud America, quindi comunque è un uomo che ama il rischio, però poi questo rischio lo porta alle estreme conseguenze, Gemma lo sa, lo sa fin dall'inizio, tant'è vero che nella parte che leggeremo lei si chiede se la porterà all'inferno e in paradiso, perché è consapevole di amare un uomo sui generis, un uomo speciale, però con tutti poi anche i contro che ne deriveranno, ma è anche vero, è anche altrettanto vero che se Diego non fosse stato così particolare, probabilmente Gemma non l'avrebbe amato, e quindi proprio questo suo seguire il cuore, seguire i sentimenti in maniera anche un po' sfiteriata, hanno fatto in modo che Gemma lo ami così tanto, però c'è un fondo di immaturità anche in lui, tant'è vero che nel romanzo viene spesso rappresentato con la testa in grembo a Gemma, come se Gemma fosse anche la figura materna, la madre, non solo di Pietro ma anche di lui stesso, proprio perché c'è un fondo di immaturità in Diego, questo sicuramente. Poi abbiamo Goico, Goico è il poeta bosniaco che è un po' l'ancillotto della situazione, quello che li fa incontrare, che li fa rincontrare. Goico è un uomo molto forte, deciso, allo stesso tempo un animo sensibile, un poeta, ammira molto quella Sarajevo multiculturale, multietnica, dove lui è cresciuto, che ha imparato a conoscere, ad amare, per cui quando scoppia la guerra rimane battito, non riesce a rendersene subito conto di come possa essere accaduto, come la situazione possa essere degenerata. Eppure poi reagisce, tant'è vero che la guerra in parte lo cambia, lo abbrutisce in un primo momento, perché la morte della sorella, della madre, lo spinge anche all'odio, ad uccidere i nemici, a giocare a pallone con la testa dei nemici, addirittura questa cosa poi lo sconvolge, dopo lui rimarrà gravemente rubato, gravemente segnato dagli orroi della guerra e praticherà molto a riacquistare la sua umanità. Però ci riuscirà, ecco, riuscirà a vincere questi fantasmi interiori e quest'odio che rischiava di divorarlo proprio grazie alla poesia. La poesia sarà un po' il suo strumento, riuscirà a salvarlo da quello che invece sarebbe stato, senza dubbio, un degrado dovuto all'odio che purtroppo la guerra aveva sviluppato, le situazioni che si aveva trovato a vivere avevano sviluppato. E poi abbiamo Aska. Aska è la madre di Pietro, no? È la ragazza che avrebbe dovuto dare un figlio alla nostra coppia. e Aska si chiama, e la Mazzana Zandini lo mette spesso in evidenza nel romanzo, come una pecora di una favola, una favola di un poeta bosniaco. Questa pecora, Aska, si allontana dal greggio senza ascoltare la madre, incurante dei richiami della madre, perché le piace ballare, quindi si allontana. Il lupo la vede, le si avvicina, però lei ballando si salva, perché il lupo è curioso di vederla ballare, lui non la uccide, non la mangia ancora, la vuole vedere, lei balla, balla, arriva fino al villaggio, al villaggio il lupo viene ucciso dagli uomini. E quindi lei ballando riesce a salvarsi. Cioè in pratica, questa storia è la metafora di come la musica, l'arte, no? Possa salvare una persona. E in effetti Aska si salva proprio anche rifugiandosi nella sua musica, lei è una musicista, una sassofonista, è una donna però che viene duramente colpita dalla guerra, subisce l'atto più grave che una donna possa subire, uno stupro, ma uno stupro ripetuto, perché viene poi chiusa in questo campo di prigionia, stuprata tante volte. Quindi quello che le dà la forza di resistere probabilmente è proprio la sua musica, il desiderio di tornare a suonare, diciamo che l'arte la salva sostanzialmente. E poi Aska compie anche un percorso molto importante perché si sposa con Goico, no? quella che sembrerebbe all'inizio la ragazza più ribelle, destinata a girare il mondo, a fare la musicista, l'anticonformista, poi invece paradossalmente arriva una situazione di regolarità a una famiglia, si regolarizza, probabilmente perché gli orrori della guerra l'hanno portata proprio al desiderio di crearsi una sua famiglia, di cercare un rifugio, un porto sicuro. E la stessa cosa vale anche per Goico. Goico che pure c'era apparso all'inizio come il poeta, molto irregolare, molto reticente anche a formarsi una sua famiglia, quindi c'è con Aska, trova un equilibrio. Quindi entrambi i personaggi più disordinati, diciamo così, più anticonformisti, forse proprio perché sono messi davanti all'orrore della guerra e attraversano le difficoltà che la guerra purtroppo li costringe a provare, diventano figure più conformiste, più regolari e si mettono insieme, si uniscono e costruiscono un nucleo familiare. Forse proprio per cercare quel porto sicuro, quel rifugio sicuro che la guerra invece aveva messo in discussione e aveva anche distrutto nel caso di Goico perché Goico nel conflitto perde l'amata madre e la sorella minore. e quindi trovano rifugio l'uno e l'altro sostanzialmente. E poi c'è Pietro, Pietro è il figlio che è di Gemma, di Gemma e di Diego, in realtà poi si scoprirà essere figlio di Aska e si sa di chi, uno dei soldati che l'ha violentata. Ed è un ragazzo che pure passa attraverso un processo di formazione perché all'inizio appare il tipico adolescente sempre in guerra con la madre, sempre annoiato, che intraprende questo viaggio un po' scocciato, alla ricerca delle origini di un padre che lui in effetti non conosce perché per lui il padre è Giuliano, il marito della madre, quindi questo Diego non sa chi sia, non lo vuole neanche sapere. Però poi dopo quando viene a contatto con una realtà nuova, diversa, anche più complessa della sua, matura. Quindi il Pietro che inizia il viaggio, che parte da Roma verso Sarajevo, non è il Pietro che torna. È un Pietro più maturo, più consapevole, forse perché ha affrontato questo viaggio e soprattutto si è confrontato con un ambiente diverso dal suo, dove c'è anche un contesto culturale differente che naturalmente l'ha riuscito. E poi c'è Giuliano. Giuliano è il terzo marito di Gemma. Giuliano è un persoporto sicuro, è un ufficiale dei carabinieri che l'aiuta a superare il grande momento di difficoltà quando le arriva la notizia della morte di Diego. Si prende cura di lei, del bambino, cresce Pietro come figlio suo e per Pietro il padre, per autonomasia ed è una roccia su cui si poggia Gemma. Senza di lui probabilmente Gemma non si sarebbe ripresa e appunto il suo porto sicuro, la sua quercia che le dà sicurezza e sostegno e l'aiuta a superare i momenti difficili. Infatti a lui che alla fine del romanzo Gemma racconterà tutta la storia di Pietro ed è colui che deciderà come procedere. E per quanto concerne i temi del romanzo, come avrete naturalmente intuito, il tema fondamentale è la critica dura, la forza che la Mazzantini muove alla guerra, la guerra nell'ex Jugoslavia nella fattispecie perché è la guerra al centro della vicenda, ma naturalmente in senso più lato. La guerra nell'ex Jugoslavia è la prova di quanto sia importante rispetto della libertà del multiculturalismo perché fino a che le tre etnie fondamentali dell'ex Jugoslavia, cioè i croati di religione cattolica, i serbi di religione ortodossa, cristiano ortodossa e i bosniaci musulmani detti bosniacchi hanno potuto convivere pacificamente rispettandosi reciprocamente non è accaduto nulla. Quando però al multiculturalismo, alla tolleranza, al dialogo interreligioso sono subentrati poi valori negativi come la prevaricazione, il fanatismo religioso, il nazionalismo che in Europa ha sempre fatto tanti danni, ha recato tanti danni all'Europa a partire dalla prima guerra mondiale alla seconda fino ad arrivare a quella che è stato il più grave conflitto nel cuore dell'Europa dopo la seconda guerra mondiale, varia a dire la guerra nell'ex Jugoslavia, la guerra che ha insanguinato l'ex Jugoslavia dal 92 al 94 e allora la Mazzantini ci mostra quelli che sono i danni del nazionalismo quando questo viene lasciato proliferare e crescere perché nel caso specifico dell'ex Jugoslavia diciamo che le prime abisaglie di questo conflitto si erano avute con la morte del maresciallo Tito fino al 1980 il maresciallo Tito era stato un po' il collante che aveva tenuto insieme le tre etnie diverse che caratterizzavano la vita del paese con la morte di Tito poi queste tre etnie avevano incominciato a essere prese da molti contrasti e poi i nazionalismi gli indipendentismi si erano sviluppati soprattutto agli inizi degli anni 90 in particolar modo tra il 91 e il 92 si erano resi indipendenti e avevano proclamato la loro indipendenza la Slovenia la Croazia e poi la Bosnia e Tregomina in Bosnia e Tregomina gli effetti della guerra furono più devastanti che altrove perché qui i contrasti tra le tre etnie furono maggiori e soprattutto Sarajevo fu la città emblema di questi contrasti perché Sarajevo subì un pesantissimo un durissimo assedio dal 5 aprile del 92 al 29 febbraio del 96 quindi quasi per 4 anni la città venne pesantemente assediata dalle forze serbo-bosniache una sorta di esercito irregolare a maggioranza serba e che pose di fatto l'assedio alla città perché la città si trovava circondata da montagne e in pratica venne assediata e furono piazzati cecchini davvero ad ogni angolo di queste montagne che dall'alto sparavano sui quartieri della città e si è calcolato che alla fine del conflitto i morti nella sola Sarajevo furono circa 12.000 con migliaia di feriti e davvero la città si trovò in condizioni tremende privata dei più elementari servizi acqua luce gas gli abitanti rischiano di morire quasi di fame e soprattutto la cosa più tremenda fu che molto spesso si sparava c'erano questi cecchini che sparavano su qualsiasi cosa si muovesse qualsiasi essere vivente donna uomo bambino come se insomma sparassero a dei bersagli a degli oggetti a dei pupazzi non a delle persone e poi leggeremo uno dei tre passi molto significativo leggeremo quello dove si parla proprio di questo di come questi cecchini che magari qualche mese prima avevano erano amici conoscenti di coloro ai quali sparavano lo facessero con una naturalezza assurda come se appunto stessero sparando a dei bersagli finti non a delle persone come la situazione in breve fosse degenerata come gli amici diventassero nemici vicini non si riconoscessero più come etnie che fino a quel momento avevano convissuto più o meno pacificamente poi si fossero fatti prendere dall'odio reciproco dall'intolleranza dal nazionalismo e tutto questo tutto questo quando poi contestualmente si consumava anche un'altra grandissima strage un altro massacro che è proprio quello che commemoriamo in questi giorni vale a dire il massacro della città di Srebrenica a Srebrenica tra il 6 e il 25 luglio del 95 quindi 25 anni fa più o meno in questi giorni furono massacrati circa 8000 bosniacchi i bosniacchi erano i bosniaci musulmani e quindi fu messa in atto una vera e propria pulizia etnica perché scientemente furono separati dalle donne e dai bambini gli uomini dai praticamente 12 ai 77 anni e furono portati nei boschi antistanti alla città e uccisi uccisi e poi seppelliti in poste comuni allo scopo proprio di attuare una pulizia etnica e questo fu svolto fatto dall'esercito serbo bosniaco guidato un esercito appunto come vi ho detto prima irregolare parannitare guidato dal generale Ladic che poi è stato condannato all'esgastolo per crimini di guerra naturalmente per questo tremendo massacro di trebrevizza però tutto questo è accaduto nell'indifferenza dell'Europa perché di fatto l'Europa nella guerra dell'ex Jugoslavia che poi si è conclusa nel 95 con gli accordi di Dayton però di fatto è rimasta inerme non ha fatto abbastanza cioè l'Europa ha avuto nel suo cuore dopo 50 anni dei fatti tremendi della seconda guerra mondiale dall'olocausto e gli ebrei per citarne uno una situazione molto simile analoga però ha fatto ben poco lo stesso massacro di Srebrenica è avvenuto un contesto in cui l'Europa è rimasta molto inerme tant'è vero che poi nella città c'erano anche 600 caschi blu dell'ONU tre contingenti olandesi che sono stati accusati anche di attemismo di aver fatto ben poco non aver protetto la popolazione locale anzi di aver quasi ha consentito che avvenisse questa separazione tra uomini e donne certo senza sapere quello che il generale l'Adici avrebbe fatto degli uomini perché l'Adici aveva fatto credere che questa separazione sarebbe servita solo per fare dei semplici interrogatori però di fatto né i 600 caschi blu né le tre compagnie olandesi fecero nulla per aiutare la popolazione civile e quindi è una grave macchia questa sull'ONU su queste compagnie olandesi e poi anche sull'Europa stessa che non fu in grado di proteggere i diritti umani insieme a se stessa e quindi assistette in maniera inerme a uno sterminio pianificato a una pulizia etnica che ci ricorda tanto l'olocausto degli ebrei per citare l'evento cronologicamente più vicino a quello che fu Srebrenica ma purtroppo fu un massacro tremendo una ferita aperta ancora nel cuore dell'Europa che noi non possiamo dimenticare dopo 25 anni proprio per evitare che si ripeta perché la memoria storica è importante proprio per evitare che un fatto simile possa accadere dato che se si è verificato nel 95 non parliamo di 3.000 anni fa di 300 anni fa ma di 25 anni fa in una nazione civilizzata qual era l'ex Jugoslavia in una nazione che era nel cuore dell'Europa che aveva una tradizione millenaria dove comunque le varie etnie avevano più o meno convissuto pacificamente per anni potrebbe verificarsi dappertutto quindi è importante mantenere il ricordo la memoria storica proprio per evitare che un orrore simile uno scempio simile su cui ripeto ancora adesso ci sono tante responsabilità da accertare su cui l'Europa è stata debole possa verificarsi in futuro per questo romanzi come Venuto al mondo sono importanti e andrebbero anche veicolati nelle scuole tra i nostri alunni perché comunque permettono di conoscere attraverso la storia diciamo piccolo dei personaggi che vengono raccontati quella che è poi la storia in grande con la S maiuscola la macro storia e che purtroppo a volte nonostante sia così recente perché parliamo appena di 25 anni fa è anche ignorata non è conosciuta come dovrebbe e per quanto riguarda poi i temi un altro tema su cui anche la Mazzantini si sofferma oltre a questo della guerra ovviamente della libertà del multiculturalismo che è il principale e quello delle adozioni in maniera velata la Mazzantini fa capire come probabilmente in Italia l'iter burocratico per le adozioni sia un po' troppo farraginoso perché Pietro e Gemma hanno bisogno di ricorrere prima a una madre surrogata in Ucraina fanno il tentativo in Ucraina poi ricorrono ad Aska in Bosnia quindi se l'iter per le adozioni fosse stato meno complicato meno farraginoso probabilmente non l'avrebbero fatto come se la Mazzantini in maniera velata volesse anche fare un po' una critica a come è l'iter burocratico delle adozioni in Italia e come andrebbe forse svestito per rendere le pratiche un po' più semplici più facili questo è un nostro tema che diciamo sottotraccia neanche più tanto sottotraccia si trova nel romanzo romanzo che possiamo definire senza dubbio è un romanzo storico storia recente 25 anni fa però è sempre storia e anzi l'insegnamento che ne possiamo ricavare è un insegnamento importante quindi senza dubbio venuto al mondo è anche un romanzo storico è un romanzo storico ma è anche un romanzo di formazione perché tutti i personaggi se ci fate caso passano attraverso un processo di formazione abbiamo detto di Pietro che va a fare il viaggio con la madre quando torna non è più quello di quando è partito e la formazione il progetto di formazione è anche quello di Aska che passa attraverso tutte le difficoltà e tutto il calvario delle violente subite e anche quello di Gemma la formazione è anche quella di Diego e quindi sì si può considerare anche un vero e proprio romanzo di formazione proprio perché i personaggi non sono statici ma sono dinamici e hanno una loro evoluzione all'interno del romanzo per quanto riguarda invece la lingua e lo stile allora diciamo che la Mazzantini è un linguaggio molto accurato è molto precisa dettagliata anche nelle descrizioni che fa le descrizioni sia della psicologia dei personaggi e sia dei luoghi poi lei ricorre molto spesso sia al discorso in diretto libero che permette ai personaggi di raccontare il loro punto di vista al lettore quasi come una sorta di flusso di coscienza e sia attraverso il discorso diretto anche questi molto accurati e per quanto riguarda la tecnica narrativa lei qui molto abilmente come vi ho detto ha intersecato tre piani temporali diversi e mediante soprattutto il ricorso al flashback ha permesso al lettore poi di ricostruire tutta la vicenda attraverso una focalizzazione interna che è quella di Gemma del personaggio principale l'ultimo dato prima di iniziare la lettura dei tre passi scelti per oggi è che anche di questo romanzo come di molti altri ne è stata tratta una trasferizione cinematografica ed è quella del 2012 per la regia del marito di Margaret Mazzantini bravissimo attore Sergio Cartellito che molto spesso ha messo in scena i libri della moglie l'aveva già fatto anche con Non ti muovere con un altro romanzo importantissimo della Mazzantini nel 2012 lo fa nuovamente convenuto al mondo e nei panni di Gemma della protagonista c'è Penelope Cruz che pure aveva già lavorato sempre con Castellito in Monti muovere quindi una trasferizione cinematografica molto accurata anche perché ripeto la coppia Mazzantini Castellito è collaudata lavorano molto bene insieme quindi vi consiglio anche di vederlo perché anche il film è fatto molto bene adesso vediamo i tre brani significativi del romanzo per darvi un'idea anche della scrittura della Mazzantini per chi non la conoscesse allora il primo brano è quello in cui Gemma decide di lasciare il marito di restare con Diego dopo che l'ha rincontrato al battesimo di Sebina la sorella di Golko allora Sarajevo aveva smontato le sue olimpiadi via le bandiere via i grossi cartelli pubblicitari destinati agli stranieri la città sembrava una casa quando gli ospiti se ne vanno era ancora più bella raccolta nel suo silenzio nella sua parsimonia il giorno dopo mi ritrovai nella cattedrale ad estacrofuore per quel battesimo semplice e commovente il prete disse poche parole intense tutte dirette in terra cercando i visi delle persone presenti Sebina aveva in testa una piccola cuffia con una grande balza bianca che le circondava il viso come un'oreola sembrava una piccola badessa con le gote rosse i suoi occhi fondi che arrivavano da lontano incassati nella carne Sebina adorata ripenso a te nella luce ambrata della cattedrale in quella buffa aggiornata dove celebrava il sacramento che ti liberava dal peccato originale dei cristiani circondato dei tuoi parenti insumani la tua pace metteva pace passava dal tuo corpo nelle mie braccia ed era nata di buono saggezza che torna a incarnarti se avessi stata poi una grande mangiatrice di pizza avresti avuto un pesce di nome bieli bianco avresti adorato guardare i simpson in tv avresti avuto i guaderni più disordinati della tua classe e le gambe più veloci del tuo quartiere a nuovo Sarajevo sento una presenza accanto a me credo che per il colpo la bambina può cadermi dalle braccia ho le gambe molli il sangue scivola giù finisce tutto i piedi non ho più una goccia di niente in faccia non volto la testa ma so che lui è lì è suo quel gomito suo quell'odore tengo Sebina pesa poco ma ho davvero paura di non farcela a tenerla è lui è suo questo modo di comparire è lui perché è scemo perché non si è preoccupato che potessi svenire si avvicina al mio orecchio e sussurra sono il padrino adesso capisco tutto il senso di quel giorno di quel luogo lo sguardo furbo e morbido di goito dopo quando gli darò un bel pugno in pancia non sai che fatico ho fatto a non dirselo ammetterà ma avevo promesso capisco che era questo che aspettavo e chiedevo addio in quella chiesa lo chiedevo a ogni corpo che entrava mi torno un po' di sangue in viso lungo le vene del collo posso voltarmi a guardarlo una mano un ciuffo dei suoi capelli un pezzo di ginzo però non è vero che è lui il padrino dopo Goico dirà che gli sarebbe piaciuto che fossimo noi due a battezzare Sebina ma c'erano degli obblighi familiari e che Diego gli aveva detto di scegliere me così è sicuro che viene lui non era certo di poter arrivare in tempo ha viaggiato due giorni e due notti odora di aeroporti di attese così mi avvicino a fonte battesimale accanto a un altro uomo un signore con grossi baffi neri il fratello di Mirna però quel battesimo è il nostro quando l'acqua bagna il corpo di Sebina alzo gli occhi e trovo quelli di Diego mangiamo trote e bosanchi lonac seduti all'aperto davanti a uno chalet di montagna con un gigantesco orso imbarsamato sull'ingresso nella lunga tavolata dove si festeggia Sebina parlo svuoto la gola e il cuore ci diamo la mano sotto al tavolo sono mani che scottano che vibrano di nuovo le nostre mani insieme lui è sorpreso di ritrovarmi così forse non mi crede suda e beve non poteva immaginare questo brodo questa gallina senza più cresta né unghie guarda i miei capelli corti il mio volto senza trucco tu sei ringiovanita e io sono invecchiato e mi fa vedere un pelo bianco tra le basette che si è fatto crescere è spelacchiato cotto dal sole dimagrito forse è vero sembra più vecchio di qualche mese azzombraccio impide il naso in una ascella mi chiede scusa perché puzza si è sciacquato nel bagno di un aeroporto porta la stessa maglietta da tre giorni perché? dove eri? dall'altra parte del mondo era immerso in un grande fiume paludoso rischiava le gambe e la vita accanto a una placida colonia di caimani fotografava un vecchio travestatore sulla sua barca di bambù si parte di un carico di pelli seccate al sole stava bene cominciava a venirne fuori aveva anche provato a far l'amore con una ragazza una tedesca in un bungalow sotto una pala che muoveva a zanzare lei si era alzata per chiudere la porta perché aveva paura che entrassero i serpenti lui l'aveva guardata quei pochi passi erano abbastati a fargli capire che non ce l'avrebbe fatta bugiardo e che cosa le hai detto che avevo la cacarella mi sono chiuso al cesso finché non se n'è andata ride chiedeva di star bene dice si alzava all'alba si beccava il sole che usciva dall'alto piano già rosso come uno di quelle calecca pieni di coloranti caricava le macchine camminava nella cuoresta verso i piccoli villaggi dei Serengeros e alla fine cominciava a frugare nella testa il pensiero di fermarsi lì come un'eremita come un monaco mi guarda fa quel sorrisetto scuote i capelli però non sono un monaco piccina quando gli era arrivato il telegramma di Goico aveva buttato le sue cose nello zaino e si era messo a correre sotto una pioggia torrenziale con il dito alzato in attesa di un camion di una macchina che passasse di lì alla fine aveva raccolto una jeep della polizia civile e aveva viaggiato in maniche corte pratiche attraverso la foresta sedute in mezzo a due cristi grossi e scuri che più che due angeli custodi sembravano due diavoli se torna a Sarajevo se ripeteva vuol dire che anche lei ha nostalgia di noi si avvicina con la testa come un toro mi fa bu mi casca addosso dammi i tuoi occhi maledetta non li scollare da qui stavolta ti ratisco la sofferenza l'ha reso più uomo più ardito è un bullo cresciuto mi tira giù dalla sedia mi porta a ballare tra gli altri in mezzo al frato mi stringe come uno sposo ha le braccia più forti mi prende per i capelli come fosse una pannocchia mi spinge sulla bocca respira nella mia mi cerca minaccioso come un caimano a filo d'acqua guardami lo sto guardando ti amo sta a ballare come un padre eterno tra le sue braccia sono un straccetto che si lascia portare alle spalle dritte di un ballerino di flamenco il bacino sinuoso e alle gambe matte che si rompono come quelle di Michael Jackson dove mi porterà questo passo in quale inferno in quale paradiso intanto non voglio scollarmi dalle sue labbra sarà una festa piccina ogni giorno una festa ti darò tutto giuro quindi questo è il momento in cui i due decidono di stare insieme in cui Gemma ha scelto di lasciare il marito adesso invece vediamo un dialogo tra Gemma e Asuka quando i due cercano di conoscersi meglio e quando ormai è chiaro che Gemma ha deciso che Asuka sarà la madre surrogata del loro bambino vediamo che cosa si dicono prendiamo un taxi per tornare dal dottore lei stringe la cartellina con le analisi che ha fatto tutto regolare dice non ho lights le sfiora una gamba le calze bucate da cui spuntano bolle di carne bianchissima sono inquieta Asuka perché? chi può dirmi che non vorrà tenersi il bambino che quando lo sentirà muoversi dirà che non può più staccarsene mi rassicura si toglie gli occhiali mi fa vedere i suoi occhi struccati stamattina mi dice che mi ha dato la sua parola ma adesso non puoi saperlo dice che lo sa che non vuole figli che non saprebbe proprio che farsene l'unica cosa che voglio è suonare cosa dirai ai tuoi amici? ci pensa un po' gli ultimi mesi me ne andrò farò così dove andrai? c'è un posto che mi piace sulla costa andrò lì e io verrò con te annuisce sotto i suoi occhiali e già mi sento rincuorata la macchina procede e io immagino una casetta bianca fuori stagione con il suo dorino di umido prendo la mano di Asuka perché sto immaginando di camminare con lei mano nella mano sulla spiaggia lei con la sua pancia e io che le preparo il te la studisco le metto uno dei miei scialli sulle spalle sarà bello sono noi due il mare d'inverno e una finestra piena di gocce fuori e di vapore dentro siamo fermi davanti alla porta di quel piccolo ambulatorio suonerò sempre per il vostro bambino così magari sarà un grande musicista di colpo si rattrista e tira una ciocca di capelli rossi e forti non gli far sentire nirvana ti suffico e cosa vuoi che gli faccia sentire mozart scordatelo chetbacher lui si il medico non c'era la porta era sbarrata Asuka salì le scale su noi altri campanelli non era rimasta che una donna sulla sedia a rotelle tornò da noi le braccia stanche sui fianchi sono tutti andati via via dove non lo sa nessuno non c'è più nessuno sentimmo delle voci e dopo un po' vedemmo due uomini in tutta mimetica affacciarsi da uno dei balconi stavano lì tranquilli come impiegati in pausa fumavano ci guardavano sembravano ridere di noi ebbi paura per la prima volta restammo un po' sotto quel portone inebbetiti come galline rimaste fuori dal gallinaio al tramonto il taxi se n'era andato ci allontanammo a piedi Asuka camminava sull'altro lato della strada pareva una che tornara una scampagnata canticchiava cercava di raggiungere con una mano le fronde fiorite dei pruni Diego mi dava la mano senza peso assente gli si era graffiato un obiettivo poco prima gli era cauto sulle scale di quel palazzo era quello per lui il dolore del giorno era stufo di quei pellegrinaggi si lasciava portare da me per inerzia per amore ma era stato ma era come stare dietro una moglie malata di un'ossessione solitaria vi fermè a guardare il cielo quel sole che si ritraeva scacciato dalla notte non c'era nemmeno una stella tornammo al buio brancolando fino alle luci della città Asuka abitava in uno dei primi quartieri l'accompagniamo fino al portone ci chiese se volevamo salire da lei non aveva molto da offrirsi non importa Calimbo adesso eravamo noi gli offani e lei nostra madre non era una vera e propria casa sembrava una specie di residence erano gli alloggi degli assedi olimpionici dentro c'era un tavolo di legno chiaro incollato al pavimento e una panca angolare ricoperta allo stesso marrone della mochetta una fila di bicchieri sul muro dietro una grata sembrava all'interno di un camper feci qualche passo per andare in bagno mi affacciai in camera da letto anche quella piccola e scura sul muro c'era un manifesto di Ennis Joplin con la sua faccia la vecchia barbona i capelli creschi lo spiraio degli occhi quello della bocca il vento del delirio sotto una scritta sul palco faccio l'amore con ventimila persone poi la scala torna a casa sola restammo a parlare un po' Asca prese i bicchieri dalla grata ci versò un po' di latte e un cucchiaio di cioccolato in polvere e mi schiò si portò un dito sulla guancia per dirci che era una buona bevanda che ci avrebbe consolati si era tolta i suoi scarponi viola camminava a scalza aveva lunghi piedi bianchi con lunghe dita sottili mi tolse una scarpa anch'io avvicinavo un piede al suo ridemmo perché i miei erano molto più piccoli e più larghi le dissi che avrebbe voluto giocare a falla canestro scosse la testa rossa e di nuovo disse che voleva soltanto suonare è uno strano strumento per una donna è il mio perché? si prende tutto il fiato tutta l'anima incollò le labbra al bocchino e si mise a suonare di Anne chiuse gli occhi e dondolò Diego la guardava con la bocca leggermente aperta come si guarda qualcuno che ci sta a cuore e che può sbagliare stavo bene avevo orato anch'io qualche boccata e adesso sentivo un po' di brividi tiepidi dentro fili di paglia che si muovivano dolcemente era andata così ci saremmo lasciati la piccola amica tra le viti alle spalle e quei 5.000 marchi buttati valevano questa serata ormai ero abituata alle sconfitte ai buchi nell'acqua sempre gli stessi nello stesso stagno era una sera dolce vibrante un commiato di cui ormai conoscevo il gusto Aska smise di suonare scolò la tromba cadde un po' di saliva fece un altro giro di latte e di cioccolato si tolse la spilla d'avvale dall'orecchio e cominciò a giocarci perché ti vesti così? ho cominciato per fare un dispetto a mio padre e ci racconta che il padre dirige la preghiera nella moschia del suo paese per anni hanno litigato però da quando è morta la madre hanno fatto pace anche mia madre è morta Diego mi prende la mano e me la bacia a cosa pensi amore mio? a niente a mia madre già penso a lei una donnetta che ha avuto così poco dalla vita Aska mi chiede era sterile anche lei? rido come non ho mai riso gusciando i denti e tutta la mia infelicità io sono nata Aska si diverte ah già che stupida è il fumo che so effetto ma forse penso a ragione lei non sono nata mai sono l'ombra dei miei desideri e di nuovo penso a quella favola a quella pecora ballerina che balla per non morire qualcuno dalle colline spara affacciamo la testa da una piccola finestra doppia che Aska tiene su con la mano perché il gancio è sotto l'aria è fredda non riusciamo a capire esattamente da che parte arrivino gli spari Aska non sembra preoccupata succede quasi tutte le notti da un po' di tempo sono idioti che si divertono ragazzi andiamo in cucina io e lei per scaldare un po' d'acqua me lo dice mentre cerca di tenere vivo la fiamma azzurra del gas se vuoi possiamo farlo naturalmente mi dice che ha appena avuto la sua mestrucia e che tra una decina di giorni è pronta per l'accoppiamento usa proprio questa parola accoppiamento rido sta giocando con quella spilla da balia dice che per lei l'accoppiamento non è un problema penso ai conigli di campagna a quei coiti rapidi ho il viso in fiamme sono storita di gioia ed un piccolo culore sguaiato vorrebbe essere un problema per me ma intanto so che non è vero che non lo è guardo la sua ruggine e ho già saltato il posto dell'ambiguità è tutta la sera che qualcosa mi galleggia nella pancia e anche prima quando ho buttato l'occhio in quella stanza su quel lettino ho pensato ma che ci vorrebbe un altro spinello e io resto di qua sulla panca e loro lì torniamo tutti a casa da soli asca tutti nel fondo dei nostri piccoli costi nati per non durare parla ancora dice che il sesso non le interessa lo trova inutile come tutte le cose troppo molli e bagnate mi dice che se voglio posso assistere come in un ambulatorio ride la ringrazio bala non coglie l'ironia ma risponde prego me lo dice ancora una volta da me ne pare mie mie problem per me l'accoppiamento non è un problema adesso vediamo l'ultimo brano scelto che è molto significativo molto commovente perché è la descrizione di come un cecchino possa sparare a un bambino ritenendolo un semplice bersaglio di come ormai il processo di disumanizzazione sia proprio completo vediamo che cosa scrive la Mazzantini prendendo spunto da quello che in realtà è avvenuto da interviste proprio realizzate a questi cecchini che si appostavano intorno alla città e che mostravano di aver perso ogni umanità mostravano davvero di essere diventati disumani allora vediamo la descrizione dovrei dire a Pietro cosa pensavo mentre veniva al mondo agli smipper alle loro tragiche vite a quell'intervista filmata che ho visto il ragazzo ha gli occhi azzurri e sorride dice come sparare ai conigli è lo stesso io vedo il bambino blu gioca con uno slittino o trascine in salita tirandolo per la corda è una bella fatica ogni volta perché scendere è un soffio salire invece però ne vale la pena è una bella giornata di luce c'è la neve fresca il bianco che ha scoperto il nero il cecchino ha bevuto grappa di prugne ha fumato ha buttato in terra la cicca che non si è ancora stenta poi ha ripreso la sua manga il suo fucine sua madre un giorno lo ha messo al mondo lo ha battezzato il cecchino una croce al collo crede nella divina trinità quella della grande Serbia la mia è un po' di più è un po' di più Grazie a tutti.